lo so lo so cosa mi dirà sei una sciocca soltanto una sciocca uscirebbe di casa conciata così ma io dico ma lei non si è vista quando indossa quei pantaloni lei sì che sembra una sciocca avendo 50 anni a non accorgersi di quanto sia ridicola a voler fare la bambina infatti la bambina sono io e non voglio esserlo vorrei essere grande certo che la vita è proprio strana quando sei piccolo vuoi essere subito grande e quando sei grande vuoi tornare ad essere bambino ma che gioco in me questo io capisco i bambini che vogliono essere grandi loro sì che almeno hanno ottimi motivi si può mangiare quello che si vuole si può tornare tardi la sera si può andare al cinema in discoteca senza chiedere il permesso a nessuno si può guidare la macchina ma soprattutto si può prendere il treno e viaggiare dove si vuole e per quanto tempo si vuole ma un grande che vuole essere un bambino perché effettivamente può giocare videogame fino alla nausea può prendere di nascosto il motorino della propria amica del cuore fare il giro del palazzo per vedere il più bello del quartiere seduto sulla sua moto si può marinare la scuola e andare a vedere le vetrine dei negozi ma soprattutto si può disubbedire grande già si può disubbedire grande